In occasione della giornata del Fiocchetto Lilla dedicata alla prevenzione e al contrasto dei disturbi del comportamento alimentare, l'assessorato alle politiche sociali del Comune ha promosso una giornata di discussione e approfondimento sui temi dell'anoressia, della bulimia e del binge eating. Ci sembrava importante ricordare una giornata, quella del 15 marzo, che è la giornata mondiale che riguarda proprio i disturbi e il comportamento alimentare, quindi la giornata del Fiocchetto Lilla. Ci sembrava importante non soltanto ricordarla ma parlarne, cominciare a parlarne dando il giusto peso anche a una tematica che purtroppo riguarda molti, molti giovani, molti adolescenti, di cui trovo che si parli a volte forse con un po' di leggerezza, attribuendo anche dei disturbi come quelli dell'anoressia, bulimia, altri disturbi al comportamento alimentare, magari a ragazzi che invece hanno altri tipi di comportamenti, quindi sottovalutando anche quali sono le conseguenze di disturbi che invece poi portano a problemi davvero complicati, difficili da affrontare e da superare. L'iniziativa è organizzata con una rete di esperti e professionisti del settore con l'obiettivo di informare i cittadini sui sintomi, gli atteggiamenti e i rischi per la salute che derivano dai disturbi alimentari. Sono problematiche di cui oggi si parla molto spesso in maniera disinformata o per luoghi comuni. Riteniamo fondamentale come psicoterapicamente ma anche come rete anche per la cura, disturbi e comportamento alimentare che chi opera nel servizio pubblico e chi opera nel privato insieme ai genitori e alle famiglie siano correttamente informati su cosa siano questi disagi e come si possono affrontare. Un settore di cui si parla poco e certe volte male, che è quello dei disturbi alimentari, in particolare anulessia e bulimia ma non solo. Sono aspetti sicuramente di patologie vere e proprie, quindi dove c'è necessità del medico, dello psicoterapeuta, dello psichiatra, ma sono anche temi molto culturali che attengono al momento storico in cui si vive da molti anni il rapporto con il cibo, il rapporto con l'altro, il rapporto con la società, con una forma di sviluppo, con un modello di vita e quindi mai come in questi momenti storici c'è bisogno di guardarsi dentro per trovare la strada personale e anche quella di sentirsi parte di una comunità. Il ruolo degli psicologi, degli psicoterapeuti e degli psichiatri è davvero strategico affinché si possa individuare uno stile di vita, un modello di vita, un rapporto tra persone e natura che possa sconfiggere delle patologie che possono portare anche alla morte spesso di giovanissimi.